ma Gesù disse in verità sono un servo di Allah mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto l'orazione la decima finché avrò vita e la bontà verso colei che mi ha generato non mi ha fatto né violento né miserabile pace su di me il giorno in cui sono nato il giorno in cui morrò e il giorno in cui sarò risuscitato a nuova vita questo è Gesù figlio di Maria parola di verità della quale essi dubitano non si addice ad Allah a prendersi un figlio gloria a lui quando dice qualcosa dice sì ed essa è in verità Allah è il mio e il vostro signore adoratelo questa è la verità